Mario, fatti la scuola. Ho deciso di riunire in un unico luogo dentro la scuola tutti gli uffici che riguardano i servizi scolastici. Quindi da oggi anche il pagamento di tutti questi servizi può avvenire qui dentro, così come tutti i riferimenti del CIAF, del doposcuola, l'ufficio del coordinamento pedagogico, lo sportello d'ascolto per la genitorialità. Tutto è qui, quindi per i genitori è anche più semplice accedere a questi servizi, trovare riferimenti, poter consultare gli orari di apertura e trovare le persone giuste a cui chiedere. Quindi credo sia un servizio in più e voglio ringraziare tutto il personale perché velocemente ha organizzato il trasloco dei servizi e ci siamo nuovamente adeguati in questo luogo a supporto della scuola e soprattutto dei genitori.